L'Abruzzo passa i fatti ed è pronto a gestire l'emergenza relativa alla popolazione in fuga dalla guerra in Ucraina. Prima riunione operativa nella sede della protezione civile regionale in via Salari Antica Est oggi. Una riunione iniziata intorno alle 12.40, proseguita per un paio d'ore. A coordinare il tutto il governatore Marco Marsilio, che è commissario delegato dal Governo per l'emergenza ucraina, con il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile Mauro Casinghini, che è soggetto attuatore. C'erano i prefetti, chi il remoto, chi in presenza, e manager delle Asla Abruzzesi, il presidente di Anciabruzzo, Gianguilo D'Alberto, e anche il questore dell'Aquila, Enrico De Simone. Le cose da fare sono tante, ma è importante dare un'informazione puntuale, al momento non c'è contezza dei numeri. Va definito però un meccanismo chiaro di gestione dei flussi. Il presidente Marsilio ha chiarito che come primo filtro saranno usati gli hub vaccinali, anche perché hanno un meccanismo già rodato. C'è il discorso dell'accoglienza e si valuta di mettere a disposizione degli alberghi, dovesse essere il flusso importante, ma non è secondario l'aspetto sanitario, i tamponi da effettuare e la vaccinazione. Abbiamo intanto stabilito di individuare dei punti filtro negli hub vaccinali, negli attuali hub vaccinali, sono otto in tutta la regione, tre in provincia dell'Aquila, Aguila Sulmona e Avezzano, due Chieti e Lanciano, un altro a Pescara e poi Teramo con possibilità di aprirlo anche a Roseto se dovesse esserci necessità. La difficoltà, su questi punti cercheremo di direzionare tutte le persone che stanno arrivando, anche cercando di arrivare a quelli che oggi sono arrivati senza comunicazione, nel senso ci sono molti rapporti familiari. Noi abbiamo stimato in Abruzzo la presenza di circa 4.000 cittadini ucraini che stanno loro per primi offrendo ospitalità. Ci sono anche problemi di altra natura, c'è il problema dei piccoli che arrivano senza genitore, oltre a questo c'è la necessità di garantire la sicurezza, per questo la Questura sarà impegnata nelle operazioni di identificazione. Va creata una rete tra AS, la Questura, Prefettura e Protezione Civile. Uno dei problemi è che gli arrivi non sono semplici da gestire, perché molte persone arrivano in modo autonomo alla spicciolata. Con la rete delle Questure, con la Polfer per esempio per le stazioni, ma con le prefetture in senso generale, stiamo organizzando un modello che ci permette appunto di intercettare questi flussi e guidarli anche in un processo di accoglienza. Anche perché se noi non abbiamo cognizione delle persone che arrivano, spesso sono persone che vengono ospitate da parenti o amici ucraini che già sono integrati nella nostra comunità, in quel caso ovviamente non abbiamo la possibilità di indicargli qual è la strada per accedere a questa integrazione che invece è prevista.